buongiorno e ben ritrovati a voi tutti cari amici da nicola e lucia dopo aver fatto un paio di servizi qui in casa sono pronto di nuovo con i video per quest'oggi questa volta parliamo di balla a volo maschile champions league giornata numero 5 nella sfida tutta italiana di ieri sera la lube civitanova macerata superato per 3 a 1 il trentino volle in casa del trentino volle questi parziali 26 24 29 31 17 25 22 25 vittoria di macerata quotata bene a 2 1 85 1 e 82 in classifica macerata fa per lei la quinta vittoria di fila 15 7 vinti 4 persi 15 punti in classifica secondo nel gruppo proprio 30 3 vinte due persi con 8 punti nelle classifiche squadre secondo posto la migliore al momento è il chemerovo ma anche il trentino un posto per i quarti di finale è l'ultima giornata del raggruppamento il 19 febbraio macerata giocherà in casa contro il fenerbace trentino andrà tra le mura amiche della diretta concorrente cesche budejovice il 19 febbraio quindi per trento sarà un test importantissimo e dovrà avvenire quindi ricapitoliamo la lube civitanova macerata fa la quinta vittoria di fila vincente in casa del trentino a volle per 3 a 1 ciao